È un vero e proprio terremoto quello che ha investito in questi giorni Arezzo Fieri e Congressi e del suo presidente Andrea Boldi. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di tre su cinque consiglieri, adesso sono rimasti appunto il presidente assieme al suo vice Elio Vitali in quota Regione Toscana. Ma è di queste ultime ore una presa di posizione netta proprio della regione per bocca dell'assessore Stefano Cioffo. Credo sia necessario ripartire da un punto nuovo per Arezzo Fieri, ha commentato nelle colonne dei quotidiani locali. Deteniamo il 40% di Arezzo Fieri, abbiamo chiesto più volte un piano che contenesse una proiezione pluriennale, ma continuava a non rispondere alle attese del corpo sociale. Una bocciatura insomma per Andrea Boldi che arriverà a fine mandato ad aprile, ma evidentemente le condizioni per una sua ricandidatura non ci sono. Su questo tema anche il botta è risposta tra la vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis e il sindaco di Arezzo. La prima chiedeva di non fare gli Arezzo Fieri un terreno di battaglia e aspettare la scadenza. Ghinelli replica invece che la linea del comune è chiara e non c'è motivo di attendere oltre. La regione è stata altrettanto chiara. Chiediamo a detto Cioffo che nel prossimo mandato venga individuato un direttore. Dovrà essere proprio la regione ad individuarlo. Non ci interessa la presidenza che deve essere invece cercata nei territori. C'è però bisogno di qualcuno che rimetta in sicurezza rapidamente il conto economico. Al momento il deficit è di 2,5 milioni di euro.